Prova video in 4K Ultra HD da Google Pixel XL In questo momento io sto camminando per testare la stabilizzazione Mi fermo, facciamo un controluce, un cielo intrigante Andiamo a fare uno zoom E qua si nota nello zoom che la stabilizzazione è assente Andiamo a fare un paio di pan veloci Devo dire che però la ripresa è veramente molto 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 bella dal punto di vista di qualità video Andiamo adesso a chiudere con la classica macro